Ragazzoli, benvenuti finalmente su questo nuovissimo video. Voi non potete capire cosa andrete a vedere su questo video, ragazzi, perché è il video gameplay più bello che io abbia mai portato sul mio canale e sono davvero onorata e felice di farvi vedere un gameplay del genere, ragazzi. È un video davvero favoloso. Peraltro ci tengo a pensare che questo video l'ho registrato quando ho giocato la finale della World Cup, perché sì, ragazzi, noi ci siamo qualificati per giocare alle finali della World Cup in duos e l'abbiamo giocata questa domenica sera. Ci siamo qualificati e abbiamo concluso appunto la World Cup con ben 54 punti e abbiamo portato a casa all'incirca un 700 dollari, adesso non ricordo bene. Ma, ragazzi, il torneo è andato davvero bene e in questa partita abbiamo fatto 28 punti in un singolo game, una cosa che credo che non sia mai successa nella faccia della terra di Fortnite. Quindi sì, ragazzi, guardate il video, lasciate un bel mi piace perché è davvero importante che voi mi supportiate e, ragazzi, mi raccomando, attivate la campanellina per le notifiche per quanto riguarda i video e supportatemi su Fortnite con il supporto a creator Croatenist. Ragazzi, godetevi il video e fatemi sapere cosa ne pensate. C'è un bel po' di gente. Tu c'è la famiglia, c'è la famiglia o sei fatto di merda? Aspettare gli altri ce la faccio. No. Sì, sì, sì. Ok, hai preso tu. La fai spiegare? Sì, vieni, perché non hai chiesto. Ok, il pop è blu. Da questi mini. Mi sono dentro. Mi serve? Quando il pop è blu io? E' sotto, lo bucchiamo in due. E' una. La box è under. Ha aperto la cassa. E' di qua, no? E' di qua, da me. Dove sono io? E' stato? Vai, miacco. Lavoro non è nostro. Sto arrivando l'amico. Mi sali su. Mi vado fuori. Aspetta. Non lo riesco a capire. Non lo so, aspetta, c'è una zorp, c'è una zorp. Vieni qua. Fatta. E' qua sotto, è qua sotto, è qua sotto. Landi, busciamo? E' giù dalle macchine. Vieni. Ti guarda blu? Andiamo. Mochiamo quelli al giardino, ce la facciamo. Dov'entrambi. Andiamo, gli altri vedersi. Ma lì? Tantico, bianco. Alla, l'inferno, infernale. Alla, l'alto. No, la moto c'è. Stink, mia. Oddio, mi ha fatto 140. La terra. 120. A 40 capi. Brava. Andiamo qua, andiamo. Fadano. Fadano. Sono su red. Aspetta che la vedo. Tutto una stinkerine. Red, mi ha fatto la terra. Non sono a prezzo. Andiamo, busciamo le ground. Vado, Nike. Una terra. Un HP. Ok, vatti. Quali, sali? Sta vendando, eh. Sì, qua dentro. Da me. Prendi il tetto, prendi il tetto. Vai. Ha salvato l'amico. Occhio. Scegli qua. Cento, cento. C'era un altro, eh. Vai. Guarda, eh. Prendi il muro. Link, via. Di lato, di lato. Mi si è chiuso qui. Sono due. Calmo. Guarda uno. Guarda pure l'altro nell'angolo, l'angolo. Via. Bravissimo. E siamo a 9 eliminazioni. Quanto hai? 4 e tu vieni 5. 9 eliminazioni. 9 punti. Dov'è portare le bende? Sì. E questo mo' si fa per il fucking endgame. Abbiamo vinto una partita. Ah, capisci? In due minuti abbiamo vinto. Cioè... Il problema è che quando noi siamo uniti siamo due sat... Siamo satana. Quando ci spettiamo... Il problema nostro è che... Magari tu dici una cosa? Però secondo me non è giusta. Tu non credi. Secondo me se crediamo... Più uno nell'altro si fa. È quello il problema. Però tipo... Ma io credo in te. Io credo in te quando dici certe cose. Però tipo quel playground quando ho detto tipo levati levati che c'era troppa gente lì. Ero sicura che non sarebbe stata una buona idea. Però io li convinto. Io sono full. Cioè, porco demone. Non è uscito a noi l'ideground. È vero? Ma se l'avessimo preso noi era una vittoria. Lo so. Era tanta roba. Io ho pensato a vincere. Lo so. Non ho pensato alla torta. Ah, c'è pure un pad lì. Coveriamocelo. È già messo. Ah-ah. Leggete qua dentro. What the fuck? No, è il rumore. Eh, non lo so perché c'è la trappola, no? Ah, no! Fornuda e porta roba. Oh, questo pad è bellissimo. Oh, oh, oh! Grazie, ma te saprai. No, eh. Vuoi capire che vuoi le fare. Ma è uno, eh? Si sta beccando. Ah, sono due. Sono due. Stanno abballando. Voglio nel nostro pad. Aspetta, barca. Anche questo qua. Hai una trappola, la sorpresa. Distruggila. Sì. No, non metterle, Laura. Mettile la sto muro che ho editato. Veloce. Niente, non l'ho editato. Ma la prenderanno comunque. Sì, l'hanno preso, ma non l'ho editato. Ha fatto il bait, quella là. Dove andiamo? Oh, oh! Devo fare lo scudone. Madonna mia. Stanno sparando tutti. Faccio una slurpia. Ah, non l'ha serato pure questi qua dietro, eh? Holy shit. Uno si è boxato a fianco a me, Martino. Due si sono boxato a fianco a me. Se la partono scivola. Ma ti avveni da me? Sto avvicinandosi. Mi vedi? Mi vedi dove sono? Sì. Mi piacerebbe. Mi è sciuto, oggi. Dietro. Come cazzo ci muoviamo? Non ci muoviamo. Good luck, my friend. Ah, hanno padato questi? No, ma si sono mossi, vieni. Sì, sì, si, sto muovendo. Sì, sì, stavo muovendo. Sì, sì, sì. Ma il pad? Sì, sotto di me. Non lo so. Ah, le vedo, le vedo. Oddio. Dietro. Giro la scala, bildoio. Giro la scala, giro la scala. Giro la scala verso di me. Ok. Ecco, vedi? Dammi uno scildone. Non ce l'è. Non ho più slurpi, eh? Che cure hai? Io un mini e basta. Nulla. Vedi da me? Ma c'è il pad, l'hai visto? Sì, vieni, veloce. Dove? Ti seguo. Mi ha detto, sono morta. Sono morta probabilmente. Ok, l'ho fatto una kill. Guarda qua. Guarda qua. Sono qui, oh. Non ho più niente io, vero? Sei stink. Ne ho dodici. È tutto nemico. Leva, leva che arriva la... C'è tanto materiale, ma leva. Io c'ho sei stink. C'ho dodici stink. Cioè. Non scherzo, eh. È nove dinamite e quattro scudini. Fattene uno. Non sono niente. Mi bene, me lo porto, sto mini. Puoi portarti, se stink? Che non già sei. No, ne ho nove. Di costa. È nove dinamite, scusami. È giro senza cura? Vieni, mini. No, io devo scudere. Hai il campfire? Tirale, tirale. Sono a tirare. No, non ho un campfire. Oh, non mi fa... Ammata. È giro. 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 Di qua c'è metallo però. Mi dici evangel estoy. Quanto c'è? Ma dimmi lì in scusami. Io lo so facendo a partita. Mi dici ring. Faccio 300. Ho stato. I mini, voglio prendere i mini Oh, ci sono quella stink GG, man Ma ancora non ce ne sono più di Ike Per me l'Ike ancora no O lo vuoi prendere veramente? Per me non ha senso, guarda Il Sifu la roba Oh, prendiamo qualcuno di quello tipo Il mattone e cerciamo noi, magari No, niente, l'hanno preso Su questo legno, mettiti su questo legno Stanno sul mattone io Sono i Ike, siamo i Ike Vai, basta, basta, basta Occhio a quelli che volano Rompi quelli che volano Blue e white Ok, perfetto, siamo così Attivo il minigun Attivo il minigun Sto qua Finco Sti al copri, sono a kill Troppo broken Ho le 9 dinamini, passiamoci Rompiamo questo under Uno che fada Uno che fada Ok, ho il fada Ho fatto questo E' 9 blue Quelli che fada no White, morto uno Scendi un po', scendi un po' Vieni qua da me Ok Mi attacco al ferro, vieni Spendendo il minigun Questo qua sotto le velo Laser Ok, stai così Ho morto uno con la sink C'è un altro blue Alzate il secondo Ok, vai, continua così Ho morto un altro con la sink Ora hai il dinamiti Tiro tutto Sono 9 Sto tirando Ok, io? Laser, laser, laser Le baller dobbiamo levare Le baller Le baller, barca Ho fatto una Ho infilato uno Oh, hai Rift Rift Occhio Ho fatto tutti questi Ci stanno scendendo E' pagato 31 morto Qua E' one hit Laser, raro Vai, vai, vai Attivo il minigun Ok, sceso sotto Dobbiamo muoverci un po' Secondo me Sceso sotto Perfetto, sono da te Ricarico Uno è white Guarda me Attivo Morto Dato 34 blu Morto C'è uno in a ground C'è uno in a ground C'è uno in a ground Vieni sotto Stiamo insieme Lo facciamo cadere Siamo 2v1 Stai sotto Stai sotto Lo faccio cadere io Tipo il minigun Stai ascendo Non c'è uno che c'è Diкретico E' tuttella Non c'è uno in a ground рудhi Atenta Senza shield Le dobbiamo Non salire Non salire Siamo vicini Quanto non Non può farci entrambi Solo una alla volta Ricarico E poi attivo il minigun Lui scende E tu lo killi Vai 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 Devo fare i mini Detro Mordo 51 Oh lisce Let's go Fai loser Siamo dei figli di puttana Baby 28 punti E' fuori di testa Let's go Possiamo fare l'ultimo game